allora interrompiamo questa musica sublime rimettiamo l'audio ai nostri amici del gcn lab eccoci qua buonasera mi sentite buonasera noi ti sentiamo anche io vi sento anche troppo aspettate che abbasso i volumi allora buonasera intanto benvenuti facciamo un applauso di rito che non si sente perché lo sento solo io allora abbiamo qui emilio giusto maestro maestro e dietro c'è il meraviglioso corpo di ballo dietro di me ne manca una ma ci sono ok ci sono ci sono e allora un secondo che abbassa un attimo i volumi benvenuti allora vuoi cominciare tu a fare qualche presentazione di rito dopodiché passo io a farti qualche domanda allora teatro qui da teatro danza qui a roma giusto allora sì il 15 aprile abbiamo la prima messa in scena di uno spettacolo di teatro danza di cui sono il regista e il coreografo insieme a queste dietro di me il titolo dello spettacolo è maria maddalena va in scena al teatro tbm di roma è un lavoro come ti dicevo di teatro danza che insieme al dcn lab che è un laboratorio coreografico io non mi vedo in finestra ma è un laboratorio coreografico nato principalmente per lavorare proprio sul teatro danza che è un lavoro che un pochino esula dal dalla solita danza accademica insomma che si vede nei teatri è infatti se ci vuoi un po spiegare bene che cosa è il teatro danza che qui siamo la chat è una chat di trogloditi e quindi nel frattempo però se volete cari amici della chat siete incuriositi e cominciare a fare qualche domanda fate pure e noi tanto ascoltiamo con piacere che cosa il teatro danza come in generale la danza diciamo non è propriamente definibile nel senso che considera che negli anni settanta più o meno la danza cerca di 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 imporsi con dei lavori che si che vadano a raccontare un po di più la la quotidianità la vita e la realtà insomma del del dell'essere umano del della vita in generale quindi principalmente è una disciplina che esula un pochino dalle danze accademiche e che vede però all'interno il l'intervenire di di alcune gestualità quotidiane di alcuni tipi di racconti messi ovviamente in in coreografia che portano lo spettatore e anche il ballerino ad ad lavorare sulla propria intimità a lavorare sulle proprie emozioni in modo da da poter avere questa comunicazione non verbale con il pubblico base insomma della della danza in generale ovviamente nel teatro danza vengono poi inseriti anche i linguaggi come la parola e la e la musica e la canzone io tendo a usarvi poco perché mi interessa di più l'esplorazione del del movimento e della gestualità in senso più interiore anche no io parto sempre dal presupposto che il movimento possa nascere da una sensazione ma più che altro da un'emozione quindi attraverso quella il corpo muove nello spazio e crea poi con adeguate ovviamente tecniche e costruzioni crea delle delle forme degli allestimenti ecco che meglio dire che intendono insomma almeno quello è quello che cerchiamo di fare e tendono ad esprimere un certo tipo di discorso un concetto oppure un'astrazione eccetera eccetera tutta la coreografia comunque è pensata e strutturata date oppure c'è spazio anche allora per l'espressione poi delle principalmente la base della costruzione quindi l'idea il concetto e l'ispirazione nasce da me e quindi sono io che porto una guida nel in scena da qui però è essenziale che il ballerino capisca effettivamente cosa stiamo raccontando e assolutamente si deve dare spazio al danzatore al performer o a chi insomma si approccia in scena perché io penso che sia essenziale vedere in scena un certo tipo di verità altrimenti rischiamo di tendere alla finzione il presupposto diciamo uno dei presupposti della del teatro danza è proprio lasciare che il ballerino possa essere se stesso cioè trovare una propria linea di espressione e metterla in gioco in campo e ovviamente guidato da un certo tipo di strada ecco che stiamo lavorando insieme vuole molta molta molto coraggio anche nell'esporsi in questo senso perché molto spesso si toccano corde molto personali e il ballerino deve essere diciamo pronto anche a farle vedere e la musica come si inserisce diciamo in questo processo creativo e la riva prima arriva dopo arriva mentre non arriva molto è molto vasto ed eventuale dipende dai dai progetti e dalla progettualità mi riferisco a questo caso perché se no andiamo poi entriamo nel dettaglio dello spettacolo del 15 aprile esatto ad esempio in questo caso io sono partito dal dal soggetto che mi interessava per idee x motivi che poi magari vi spiegherò e da lì ho cercato quella che era la suggestione che nella mia mente si era andata a creare la scelta della musica penso sia la cosa più devastante per noi che facciamo questo tipo di lavoro perché è una ricerca continua è una un'ossessione costante perché finché non trovi quel compositore che in quel pezzo specifico ti dà quella sensazione ti evoca quell'immagine è sempre una ricerca veramente vasta e infinita quindi io non ho diciamo autori non ho compositori di riferimento ma ascolto qualsiasi cosa poi magari se c'è un compositore che ha fatto un pezzo che può essere vicino a quello vado ad ascoltarne la discografia la sento tutta però è sempre molto vasto ecco in questo caso ho fatto la ricerca al contrario alcune volte capita che magari ascolti una musica che ti fa evocare qualcosa quindi arriva un'ispirazione e da lì vai a cercare quello che sta attorno all'ispirazione stessa c'è magari un genere specifico magari più vicino però al di riferimento oppure può spaziare da qualsiasi no no è assolutamente aperto a qualsiasi cosa abbiamo fatto spettacoli con solo dei suoni abbiamo fatto spettacoli con l'orchestre sotto di sottofondo con dei cantati è proprio vasto a seconda della progettualità diciamo io cerco sempre di capire poi è interessante perché a volte mi forzo di non sapere il compositore perché è su cosa ha composto quella musica perché è interessante avere la mente aperta e poter avvicinare un movimento o una situazione o un allestimento magari a una musica che non c'entra di primo acchito assolutamente nulla ma che poi invece diventa parte essenziale del movimento perfetto allora entriamo nel dettaglio di questo spettacolo appunto maddalena e qualcuno delle persone che qualche persona insomma ha letto il comunicato quindi sa più o meno quelle che sono i temi però se entriamo proprio nel nello spettacolo e poi so che ci sono alcune cose che si possono dire altre invece che si possono spoilerare e rovinare l'effetto non sono un favore del del titolo sotto le opere insomma quando vai nei musei non mi piace mai vedere il titolo ma anche un po come ti dicevo prima delle canzoni no delle musiche quindi sono sempre molto criptico nel dire cose dello spettacolo perché poi di base l'arte il teatro in prima persona è sempre deve essere sempre molto aperta perché ognuno di noi vive un'emozione a seconda del proprio essere del proprio vissuto quindi arrivano cose diverse a prescindere da quello che tu metti in scena e quindi deve essere molto libero a livello di interpretazioni per il pubblico per quanto riguarda lo spettacolo diciamo che tengo a sottolineare che non è uno spettacolo che fa parte o rientra nel nessun tipo di religione non c'è nessuna pirata verso questo tipo di discorso mi interessava approfondire l'immagine di una donna in principal modo la cosa che mi ha spinto un po di più è stato tempo fa ho visto su dei libri l'opera di di donatello e mi sono chiesto perché la chiamò la penitente da qui ho cercato di capire che cosa volesse dire essere penitente e ed esserlo a quei tempi da lì ho cercato di immaginare la le sensazioni intime di questa figura che è sempre stata affiancata alla figura poi della religione evangelica eccetera ma non ci siamo mai soffermati su quello che è stato il il suo modo di affrontare ecco determinati tipi di scelte che ha dovuto fare in quel tipo di epoca e questa era la cosa che volevo un pochino più lavorare quindi in scena vedrete diciamo questo aspetto intimo della di maria maddalena o comunque quello che abbiamo immaginato essere e lo vedrete anche diciamo un po più in concreto perché questi aspetti che sono all'interno di questa donna sono realmente visivi al pubblico ecco questa è il gioco che abbiamo messo in questo tipo di spettacolo loro dietro ridono le mie simpatiche danzatrici però questo è il sunto della messa in scena insomma la l'interiorità di una donna palesata attraverso la danza e la gestualità ci puoi dire leggevamo insomma che ogni danzatrice incarnerà un aspetto esatto ogni danza dice incarnerà un aspetto di quello che di quello che io ho voluto un'emozione oppure un un'emozione proprio oppure proprio un una parte di una personalità e questo non te lo dico perché devi venire a vedere lo spettacolo io ci sarò sicuramente ma ci vuoi anche presentare più o meno associare le cose o anche lì non possiamo sapere prima che era un modo per far intervenire anche anche loro no guardate le faccio se ci vuoi presentare intanto che i nomi reali c'è la chat che quando io ho detto ci sono cinque danzatrici in subuglio allora noi abbiamo ovviamente prove fra un pochino perché insomma noi dobbiamo fare delle prove ancora e ovviamente si sono presentate puntualmente in felpa nera pantaloni neri tutto molto lato perché loro sono molto femminili da questo punto poi sul palco sono un'altra cosa ma nella vita sono un pochino così un po provavamo a far salire loro nel pone allora abbiamo abbiamo alzate la mano e abbiamo Ilaria da questa parte eccola la poi abbiamo Silvia si l'ho già visto da qualche parte poi di qua di qua c'è Rachele poi abbiamo Giorgia e non si vede sbuca fuori ecco e questa è Adriana ok queste sono le mie cinque danzatrici bene bene intanto c'è un ascoltatore che ci dice che ha già visto lo spettacolo tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie posso dire che la regia di Emilio Zavatta è molto interessante e piena di spunti di riflessione non vede l'ora di tornare a vedere questo spettacolo vi ringrazio Alice è stato l'ultimo spettacolo che abbiamo messo in scena con qualche replica in più quest'anno invece abbiamo scelto di fare una sola data quindi non abbiamo già programmato delle repliche che probabilmente in un futuro ci saranno ma non possiamo fare delle repliche perché in scena accade qualcosa che non può essere ripetuto lo spettacolo una tanto esatto e allora io volevo far sentire un brano tanto per capire un po' in che atmosfera ci caliamo e voi aspettate insomma pure lì tranquilli da una parte ci ascoltiamo allora vediamo quello che mi avevate mandato lo faccio partire quanti sono si può sapere più o meno quanti saranno i brani no la durata dello spettacolo è di 60 minuti ah per precisi ok precisi allora questo è Sea of Atlas sì di Armando Moravido quindi ci ascoltiamo un attimo questo brano insieme e poi torniamo per qualche domanda perfetto ora lasciamo sfilare un pochino in sottofondo e intanto torniamo con Emilio allora e nel frattempo ripeto se tanto già questa musica ha evocato qualche suggestione alla chat vuole fare qualche curiosità qualche domanda può procedere e ti volevo chiedere diciamo tu sei stato ispirato ricevi da dalla storia dal dipinto eccetera ma con quali parti di te si è entrato in contatto poi per tirare fuori tutte queste idee questo spettacolo cosa hai dovuto esplorare è stato faticoso far uscire aspetta scusa che ti avevo tolto l'audio te lo rimetto eccoci dicevo che devo dire che questo spettacolo in particolar modo mi ha impegnato più del previsto ecco nel senso che poi la difficoltà è stata realmente cercare di di mettersi dalla parte di una donna poi fondamentalmente perché poi si generalizza abbastanza se si può immaginare però è stato difficile diciamo andare a cercare quella chiave in più che appartiene all'universo femminile poi arrivate già accuse di mens planning in questo in questo senso sono state molto sono state essenziali loro loro perché ho chiesto loro soprattutto nelle prime fasi di allestimento di lavorare su alcuni tipi di aspetti e di farmi vedere delle cose che che potevano essere molto più personali verso verso la loro dimensione ecco e da qui insieme ho cercato di incanalare ecco tutte queste energie e queste idee in un in un percorso che poi adesso è sviluppato insomma in quello che è lo spettacolo quindi un po' faticoso sia la ricerca delle musiche devo dire su questo tipo di spettacolo e sia ecco la messa in scena della parte femminile che per quanto tu puoi immaginare ha comunque una sfumatura in più che tu non puoi raggiungere da lì insomma attraverso loro ho cercato almeno spero ecco di aver interpretato nella maniera più corretta il il loro il loro modo e poi dovete sempre venire a vedere lo spettacolo che credo per chi chiedevano dove possono acquistare i biglietti su viva ticket si esatto su viva ticket.com credo digitate maria maddalena il lo spettacolo del 15 aprile si apre la platea insomma comunque in automatico sulla nella chat compare l'annuncio con il link e poi su sul nostro discord tutti gli abbonati hanno anche tutto il comunicato con con l'annuncio quindi chi vuole chi è di roma e dintorni 15 aprile può tranquillamente tranquillamente venire e una cosa una curiosità visto prima ditemi voi perché voi avete le prove quindi non so quanto potete restare si guarda abbiamo ancora sette minuti perfetto sette minuti una curiosità io anche diciamo legata un po al mio lavoro e noi per esempio qualche anno qualche puntata fa abbiamo ospitato un ragazzo dell'ufficio stampo del monk fra le varie attività che fanno al monk c'è ci sono dei concerti rivolti a persone sorde e quindi ci ha spiegato un po tutto il discorso di come funziona l'accessibilità di sordi al concerto dal vivo e volevo chiedere se è capitato insomma se a me pensato appunto se uno spettacolo del genere al di là delle musiche potesse arrivare a trasmettere il messaggio magari a persone sorde o comunque con disabilità che potrebbero preservarli un po la l'accesso poi a tutto quello che è l'arte messa sul palco grazie oblo chiedevo c'è un moderatore che ha sospeso simpaticone nella chat ok e allora sì nel senso che questo tipo di aspetto ovviamente mi è già ho avuto modo di ragionarci un po sopra tra le varie idee ho una bozza di spettacolo con una linea di sole luci e sole percussioni perché anni fa feci da ragazzino insomma quando ancora giravo per compagnie feci un bellissimo stage che ci fece lavorare con dei palloncini a contatto con il corpo per percepirne le vibrazioni quindi mi è rimasto impresso il lavoro e avevo pensato e ideato anche uno spettacolo che è rimasto poi un attimino lì nei miei appunti di luci e di vibrazioni è tutto è tutto molto possibile in realtà il io penso che il discorso ulteriore sarebbe quello di educare invece il pubblico nel senso che all'interno di uno spettacolo che può essere anche per i cosiddetti tutti ci dovrebbe forse essere anche la possibilità di di non avere nessun tipo di fastidio o comunque leggere uno spettacolo che che magari mette in gioco anche dei meccanismi che possano aprire questo tipo di immaginario evocativo anche a chi ha difficoltà senza dover spiegare nulla a nessuno e questo però questa è utopia ovviamente ancora siamo un po lontani però sarebbe bello farlo sicuramente purtroppo noi piccole realtà noi piccole compagnie o piccole scuole abbiamo il grande ostacolo economico perché questo è una grande cosa poi noi siamo noi noi sei che ci autofinanziamo insomma andiamo in scena con i lavori e sacrifici diciamo nostri quindi non abbiamo nessun tipo di finanziamento è vero anche che è una cosa che vogliamo fare e che ci piace fare però sicuramente l'ostacolo è grande avere una dei contributi ti permette anche di poter pensare a cose gestite ovviamente non ne avrei le competenze fino a quel punto quindi avrei anche la necessità di uno staff che sappia quello che andiamo a fare però insomma sarebbe bello chissà un giorno la cosa interessante magari così tanto come curiosità loro del mon che mettevano a disposizione mettono a disposizione anche già da adesso non solo per per lo spettacolo specifico ma anche per gli altri concerti una specie di giubbotto che riceve il segnale dal mixer e presente vibra che vibra tramite le vibrazioni di quella che è poi la musica quindi questa diciamo potrebbe pensando al palloncino questo è arrivato insomma a una cosa più un'evoluzione ora visto che abbiamo tre minuti quindi ci abbiamo tre domande veloci veloci di bumerone allora veloci sono le domande le risposte spero che che lo siano altrettanto per voi che dovete allora tecnica o espressività cosa conta di più per te e perché espressività assolutamente il perché è abbastanza ovvio perché essendo l'arte una comunicazione se io scrivo bene ma non scrivo niente non ho niente da dirti perfetto e quindi siamo siamo in sintonia più o meno quello che è il sentire di questa community vado direttamente la terza poi torniamo la seconda in caso come si pone il teatro danza nei confronti dei canoni fisici ed estetici della danza classica in senso stretto cioè sono gli stessi cani canoni ognuno ha un proprio ruolo ruolo diverso ma il teatro danza come si pone non lo so io io che faccio il teatro danza o cerco di farlo non me lo pongo proprio il problema la cosa bella è che ognuno ha un fisico diverso e qualsiasi cosa io riesco a fare con il mio fisico un'altra persona che ha un fisico diverso dal mio non potrebbe farlo quindi è un pregio massimo della personalizzazione e poi domanda sui talent show opportunità o fenomeno da demonizzare assolutamente opportunità dipende da come lo fai e con chi lo fai è una vetrina che serve lancia ha lanciato anche il discorso danza e mi riferisco un po di più al all'aspetto maschile della danza la normalizzata un po di più però quella non è l'unica danza non è solo quella la danza è una parte è una piccola piccola parte della danza perfetto c'è una domanda di oblo che non ho capito se è seria o meno il collo del piede è davvero così importante il collo del piede il collo del piede è importante non è essenziale aiuta aiuta ad avere quella grafia di cui parlavo prima una grafia più pulita nella comunicazione però aiuta non è non è fondamentale perfetto allora nel frattempo grazie pomerone per pubblicato il link diretto di viva ticket per i biglietti sono le 21 spaccate quindi non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al volo altrimenti io innanzitutto ringrazio per per essere venuti qui a trovarci ma io ringrazio per l'invito e grazie mille per l'opportunità e volevo dirti anche che parlare di queste cose non è semplice e non trovi molto spazio quindi ti ringrazio e spero insomma che ci saranno altre occasioni per condividere insieme un qualcosa bella o brutta che magari ci vediamo dopo il 15 per fare il riscontro se le lascio vive così possono parlare perché almeno non c'è più la censura dello spettacolo e io vi lascio con una canzone a tema che è magdalena degli e per per circolo e vi auguro con questa un in bocca al lupo ci vediamo il 15 comunque